storia di un cavallo uomo e bambino un giorno un uomo con il suo bambino stava camminando per mezza via con un solo cavallo mentre via c'era tanta gente che stava a guardare e diceva ma guardate chi rom è vecchia in sala nuca e id e a cavallo e il picciotto cammina in terra l'uomo lo correggeva e gli diceva ma il picciotto cammina a pera l'uomo scese la coppa o cavallo e fece esagere il picciotto e una donna gli disse ma non ti mette scuorne e l'uomo le rispondette e che vuoi fare questa vita e così l'uomo e il picciotto gli mettene tutti e due un gruppo cavallo ma non mi chiedesse ma non stancato cavallo e così si fece coraggio e rispondette ma fatevi cazzo vuost questa è la storia di un cavallo uomo e bambino e se la vuoi senta te la racconta una volta e perché mi hai raccontato sta storiella ma domani e te rispondi perché non c'è nessuno che si faccia i cazzi suoi